Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti, attivare la campanella e lasciare un mi piace, grazie. Il 2023 si sta portando via numerosi artisti che hanno contribuito a fare la storia del cinema. A inizio anno se n'è andata Gina Lollobrigida, seguita da Lisa la figlia del noto cantante Elvis, mentre più di recente è toccato a Jane Biken, icona del cinema della musica e della moda. Quelli appena elencati. Sono solo alcuni nomi che hanno lasciato questo modo un altro grave lutto ha colpito il cinema nelle ultime ore. Di recente si è diramata la notizia della scomparsa prematura di uno degli attori più famosi di Hollywood. È morto l'attore David McCann, popolare volto di NSES, unità anticrimine in cui vestiva i panni del dottor Donut, aveva non tant'anni. L'attore, come riferito dal figlio Peter, è morto per cause naturali. Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole a scritto in una nota affidata a People. Ha sempre anteposto la famiglia a se stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro, le parole di Piro McCaddam.